Grazie per averci dato la possibilità di poi illustrare la nostra UCCP, unità complessa di cure primarie, dove io sono il coordinatore e insieme alla collega Servello siamo qui a illustrare ciò che noi facciamo. Mi consente di presentare anche la dottoressa Servello, non la lasciamo lì da sola, poverina. Dottoressa, benvenuta anche a lei. Salve, buonasera a tutti. Io lavoro nell'UCCP di San Pietra Maida e sono titolare di Guardia Medica, sempre nella stessa struttura, da circa 19 anni. Perfetto. Allora, noi diciamo ai nostri telespettatori che ci stanno seguendo che intanto siamo qui per questa paventata chiusura praticamente della Guardia Medica di San Pietra Maida, però nel contempo il nostro coordinatore già mi diceva che probabilmente è stato sospeso tutto, però lo spiegherà meglio lui. Sì, allora è stata fatta una riunione a livello regionale dove erano presenti i nostri rappresentanti sindacali e praticamente allo stato attuale è stata sospesa la delibera che chiudeva le 35 postazioni di Guardia Medica sparse su tutta l'Aspi di Catanzaro e quindi anche la nostra. Voglio precisare che la Guardia Medica di San Pietra Maida è in un contesto, è in una struttura che è l'UCCP e quindi è H24, cioè i medici e gli infermieri lavorano sia di notte che di giorno, sabato e domenica compreso. Per cui già questa è un'anomalia, anche perché la Guardia Medica di San Pietra Maida è un avamposto, chiamiamolo così, di un pronto soccorso di la mezza termo e qui afferiscono pazienti di ogni tipo e quindi abbiamo dei dati dove praticamente possiamo dire che nell'arco di un anno, nel 2019, abbiamo effettuato visto che l'UCCP è dotato di strumenti tipo elettrocardiogramma sia in telemedicina che manuale, è dotato anche di apparecchiatura tipo ecografi, per cui noi facciamo un pronto intervento e la gente si rivolge a noi, non solo per i codici bianchi che abbiamo effettuato in un anno quasi 4.000 codici bianchi 4.380, ma purtroppo ci capitano anche codici rossi per cui abbiamo, nel 2019, siamo intervenuti su 12 pazienti in codice rosso che va dall'infarto all'edema polmonare a traumi abbastanza gravi, codici gialli e codici verdi quindi la chiusura della Guardia Medica di San Pietra Maida non solo comportava la chiusura di notte, ma anche di giorno e quindi l'assenza a quel punto degli infermieri che non avrebbero avuto nemmeno modo di esserci ricordo che San Pietra Maida e l'UCCP effettua non solo le prestazioni all'interno della struttura ma effettuiamo tutti i prelievi domiciliari del territorio che vanno da Curinga, Maida, Iacurso, Cortale, San Pietro Lametino Acconia, Vena di Maida e San Pietro Maida stesso e tutto ciò che riguarda le prestazioni infermieristiche dalle medicazioni a tutte le flebbo e nell'arco di un anno noi come UCCP che è costituita anche dalla Guardia Medica se di urna che di notte abbiamo effettuato qualcosa come 744 prestazioni infermieristiche 1920 prelievi domiciliari e tante altre prestazioni che vanno anche da ecografie che vanno anche a elettrocardiogrammi in telemedicina nonché noi effettuiamo la vaccinazione abbiamo effettuato la vaccinazione ai pazienti sia disabili e nonno per complessive per complessive per complessive 2772 vaccini effettuati cosa comporterebbe la chiusura della Guardia Medica? Chiaramente comporterebbe anche la chiusura di tutti questi servizi che sono servizi che sono sul territorio e dentro la nostra struttura questo è quello che... Perfetto, ringraziamo intanto il dottor Venturi che in una sintesi breve ci ha fatto capire quello che avrebbe potuto significare questa chiusura della Guardia Medica qui in San Pietro a Maeda credo che veramente siete un mini ospedale con un pronto soccorso sempre a disposizione eventualmente di cittadini che ne avessero bisogno però la dottoressa Servello aggiunge tutto questo quello che è il lavoro che anche lei da dottoressa ormai esplica in questa struttura Sì, sicuramente la nostra presenza è molto molto importante sia per quanto riguarda le persone anziane ma anche soprattutto anche per i bambini perché in questa realtà non esiste un pediatra in sede di conseguenza tutta la popolazione pediatrica si rivolge in primis a noi medici di guardia e poi poi eventualmente va in ospedale perché specialmente nel periodo cioè nel durante la settimana al di fuori della fascia oraria pediatrica del medico insomma del pediatra non c'è un un medico che possa assistere questi questi bambini per cui noi sopperiamo a questa carenza pediatrica in più nell'emergenza esplichiamo il nostro lavoro in primis prima ancora che arrivi il 118 e poi eventualmente li mandiamo in pronto soccorso alla mezia o in qualsiasi altra struttura adeguata quindi il primo approccio del paziente in urgenza arriva da noi e noi siamo già attrezzati come struttura a svolgere il nostro compito nel migliore dei modi perfetto dottoressa io torno al nostro dottor Venturi che è coordinatore ricordiamolo ancora una volta col quale voglio intanto dire che scongiurato per il momento questo pericolo della giusura c'è anche un altro fatto che è rilevante il discorso delle autombolanze ne vogliamo accennare sì e noi ultimamente nell'ultimo periodo abbiamo avuto le ambulanze senza medico per un problema di sciopero dei colleghi del 118 a questo abbiamo sopprito noi con il nostro personale sia di guardia medica che quando ce n'è stato bisogno si è prestato a salire in ambulanza ad accompagnare i pazienti ecco insisto cioè voglio ancora ribadire l'utilità di queste strutture della guardia medica che praticamente serve a ridurre tutti quegli accessi improprio all'ospedale che non solo creano disagi ai cittadini che praticamente per un nulla si devono ricare all'ospedale ma riducono notevolmente la spesa che l'ospedale dovrebbe sopportare avendo un mare di gente che si reca anche per cose che possiamo gestire noi e chiaramente oggi il 118 anch'esso credo che sia stato risolto per adesso il problema oppure o meglio è stato ho saputo per 90 giorni il problema è stato risolto poi si vedrà ma per quanto riguarda la guardia medica io ritengo che per ora è stato sospeso ogni forma di soppressione delle guardie mediche ma è un problema che si riproporrà in futuro e quello che noi chiediamo è appunto che venga se deve essere fatta una selezione che venga fatta con dei criteri che possano tenere conto dell'utilità delle postazioni e soprattutto dei servizi che le postazioni stesse possono dare alla cittadinanza specialmente come quella nostra che siamo lontani da un presidio ospedaliero e quindi lontani sia come tempo che come chilometri quindi soprattutto una postazione che è dotata di strumentazione che permette di ridurre non solo gli accessi al pronto soccorso dei codici bianchi ma anche dei codici verdi e come vi ho detto prima anche codici rossi riusciamo già a dare degli interventi qua sul posto e questo permette non è poco a giudere da quello che abbiamo sentito dal dottor Venturi possiamo dare un messaggio finale ai cittadini di San Pietrammaida che per il momento la situazione è risolta e quindi possono stare tranquilli anche perché la vostra presenza soprattutto di professionisti veramente seri convincerà chiunque dovesse mai avere bisogno del vostro supporto di poter venire perché voi sarete lì pronti a soddisfare qualsiasi esigenza dottoressa Io spero che i politici e chiunque sia nel settore ci faccia un pensiero e valuti che la chiusura della postazione di guardia medica è una cosa proprio fuori dal normale la gente ha bisogno di essere visitata di essere curata e non può farsi chilometri e chilometri per una semplice visita che si potrebbe risolvere in pochissimo tempo Amici abbiamo da pochi minuti sentito il dottor Venturi la dottoressa Servello per quanto riguarda questa scongiurata ringraziando il signore chiusura della guardia medica qui in San Pietrammaida e noi abbiamo il piacere di avere al nostro fianco il sindaco di San Pietrammaida l'avvocato Domenico Giampà che ringraziamo per l'accoglienza e lo salutiamo e vediamo un po' di parlare con lui di questa piccola problematica qui a San Pietrammaida ben ritrovato sindaco grazie buonasera a voi per noi è una grande problematica che vogliamo risolvere con la comunità e con i passaggi istituzionali appunto quello del consiglio questo presidio diciamo di cure primario con la guardia medica per noi svolge un ruolo importantissimo non solo per noi ma anche per il comprensorio nel senso che comunque i dottori infermieri ma anche le apparecchiature che hanno il servizio che offrono sono delle cose che avrebbero potenziate però nella nostra regione paradossalmente dobbiamo lottare perché qualcuno si alza la mattina e intende tagliarle noi abbiamo avviato il percorso istituzionale giustamente vogliamo che il consiglio che è il nostro principale organo appunto si pronunci contro questa proposta di chiusura ma se ciò non dovesse bastare perché lo invieremo a tutte le autorità preposte andremo avanti insomma con proteste e quant'altro speriamo di no ma noi con la popolazione siamo pronti assolutamente sì sindaco da quello che ci ha detto il dottor Venturi che poi è il coordinatore noi abbiamo avuto notizie che evidentemente per il momento così come ho anticipato prima di presentarla questa situazione di chiusura di guardia medica a San Pietro a Maida non ci sarà e quindi questo vi fa un po' stare meglio vi fa stare meno preoccupati cioè però non vi fa abbassare la tensione per poter poi evidentemente in sede di consiglio di ribadire ancora una volta e di parlare di questo problema che sarebbe veramente una catastrofe per una città come San Pietro a Maida dove i due dottori che io ho sentito si spendono a 360 gradi addirittura penso di dover dire che forse c'è un pronto soccorso è un mino ospedale proprio qui a San Pietro a Maida che riesce a sopperire a tutte quelle che possono essere le esigenze dei concittadini Sì diciamo che per adesso questa proposta di delibera è sospesa perché c'è stata una mobilizzazione anche da parte degli altri sindici che è intervenuto il ministero però il problema qual è? Che comunque un'esigenza di fare i tagli c'è io in maniera anche solidale con gli altri sindici dico posso capire che ci sono i tagli però non possono essere fatti in maniera ragionalistica sulla base dei calcoli nel senso che comunque il diritto alla salute va garantito deve essere creata una rete una rete ospedaliera di base insomma di prime cure la casa della salute però prima diciamo si progetta e poi si taglia ma a prescindere da questo per quello che è il nostro caso specifico è una realtà veramente positiva per tutto il comprensorio quindi non capiamo appunto una logica di prima se si decide di fare dei tagli perché non si parte dalle belle realtà o dalle realtà che funzionano la nostra è una di quelle e orgogliosamente la porteremo avanti insomma come modello da seguire allora sindaco a chiudere il messaggio che vogliamo mandare è che evidentemente poi dovrà cercare di risolvere questa situazione importante non solo per il comune di San Pietro a Maida mi sembra di aver capito che sono addirittura 65 i comuni che sono coinvolti in questa situazione cosa possiamo dire facciamoci sentire e ascoltare da chi poi vedrà questa nostra intervista che è l'ASP di Catanzaro perché è l'unica in cui si è operato questo tipo di taglio non può essere l'unica in Calabria in negativo nel senso che se si vuole fare una riforma deve riguardare tutta la regione e soprattutto gli eventuali tagli e il ridimensionamento potrà essere e dovrà essere operato dopo che verrà come dire fatto un piano nuovo per la sanità a livello degli enti locali sono convinto che se dovesse andare avanti su questa strada soltanto come Catanzaro e non considerando il resto della regione si arriverà veramente ad uno scontro inaudito tra diciamo i sindici che si rifiuteranno di fare i sindici perché non riescono a garantire i livelli assistenziali minimi per il diritto alla salute e con quelle che sono appunto gli emissari diciamo del ministro che in questo caso sono i commissari dell'Aspu si andrà come dicevo prima allo scontro questo lo vogliamo scongiurare però apriamo un tavolo insomma con i sindici con chi gestisce il dipartimento delle politiche sanitarie in Calabria e parliamo di programmazione per la prima volta si deve parlare comunque in questa regione di programmazione e poi di tagli assolutamente sì sindaco per quanto ci riguarda la nostra emittente STV è a vostra disposizione in qualsiasi momento per poter evidentemente trasmettere qualsiasi tipo di notizie di consigli di situazioni varie che voi creerete in merito a questo problema che si è creato va bene? grazie noi vi ringraziamo perché comunque date voce a chi difficilmente ce l'avrebbe grazie a voi grazie a voi ma amici ci raggiunge in questo preciso momento la dottoressa Loretta Zarito qui nel comune di San Pietro al Maeda assessore alla cultura che evidentemente anche lei in questo preciso momento è stata informata che questa chiusura della guardia medica di San Pietro al Maeda probabilmente non ci sarà almeno per il momento quindi è una buona notizia intanto ben ritrovata dottoressa ti ringrazio ringrazio te Renato e l'emittente STV sempre parte veramente di questa nostra realtà che è San Pietro a Maeda e quindi giunge sì questa bella notizia e allora adesso il piano B come si suol dire perché noi pensavamo effettivamente come in questi tempi bisognava in realtà lavorare ad un potenziamento del servizio che possa essere anche con un supporto per esempio della pediatria quindi per la continuità medica notturna di conseguenza ne siamo lieti perché era una decisione effettivamente che non si poteva accettare pensando agli anziani perché è vero che guardiamo al numero diciamo fisico di una popolazione però bisogna guardare anche all'anima al suo interno quindi anziani bambini certo anche adulti e molti anziani che vivono da soli quindi inammissibile non ci resta allora veramente che lavorare ad un potenziamento come giusto che sia tu sei già ottimista in quello che hai detto ai nostri tre spettatori io lo sono altrettanto perché ho avuto il piacere di conoscere proprio questa sera qui nel vostro meraviglioso comune la dottoressa Servelli il dottor Venturi che hanno dato veramente notizie che hanno fatto stare tranquilli un po' tutti quanti anche se il sindaco evidentemente ha detto che non tutto è finito e lui è sul piede di guerra perché dice noi andremo avanti e combatteremo fino in fondo per scongiurare eventuali altre situazioni che possono pregiudicare appunto la guardia medica di San Pietro a Maya è certo assolutamente quindi diceva peraltro il sindaco prima reazione giù le mani dalla nostra guardia medica ma proprio per sottolineare questa è una sintesi questa espressione di questa storia che c'è a San Pietro una realtà che funziona meravigliosamente ma le testimonianze saranno anche date questa serie in occasione di questo consiglio appunto straordinario appunto partecipato perché è la popolazione che deve prendere attivamente parte allora dottoressa ti ringrazio e noi siamo pronti per registrare qualche fase di questo consiglio comunale che qui a poco inizierà grazie veramente grazie a tutti